Nelle ultime settimane sono stati già due i vasti incendi che hanno interessato il territorio terramano. Dopo Montorio, ieri le fiamme hanno interessato una parte di bosco e sterpagli in un'area calanchiva nel territorio del comune di Mociano Sant'Angelo. L'incendio ha interessato una superficie di circa 7 ettari nella zona di Colle Pietro e per domare le fiamme è intervenuto anche l'elicottero dei pompieri che ha effettuato vari lanci d'acqua. Intenso lavoro fatto in stretta sinergia con le squadre di terra che ha portato in serata a controllare l'incendio. E proprio sul pericolo incendi, con una recente circolare indirizzata a sindaci, enti preposti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, il prefetto Fabrizio Stelo ha richiamato l'attenzione sulle misure preventive e operative necessarie per affrontare le criticità degli incendi boschivi. In tal senso notevole lo sforzo della prefettura, tanto che già in primavera il prefetto Stelo aveva inviato tutti gli enti competenti una propria direttiva contenente le prime indicazioni operative per possibili situazioni di emergenza e con la quale ha sensibilizzato le forze in campo sull'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, contestualmente alle azioni di prevenzione di lotta attiva rientranti nelle competenze della regione. Particolari interventi sono stati chiesti inoltre agli enti gestori della rete stradale e di quella ferroviaria per la ripulitura e la rimozione di sterpaglie e vegetazione lungo le scarpate e i cigli dei percorsi di competenza, ai sindaci per l'attività di aggiornamento dei rispettivi piani comunali di protezione civile e del catasto incendi boschivi, per la sensibilizzazione di informazione della popolazione per i maggiori controlli dei siti o aree a forte incidenza di pubblico, quindi più esposta ai rischi incendi e per l'adozione di ordinanze e volta alla rimozione da parte dei proprietari di ogni possibile causa di innesco o propagazione incendio nelle aree boschive e nelle fasce perimetrali di zone antropotizzate, con particolare attenzione ai terreni incolti o abbandonati.